Centinaia di bambini hanno accolto questa mattina il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in visita al 33esimo circolo risorgimento nel quartiere di Soccavo che comprende anche i plessi Verdolino e Nuovo Edificio. L'occasione è stata offerta dalla consistente opera di pulizia delle aree verdi dell'istituto, circa 1.500 metri quadri, realizzata nell'ambito del progetto Adotta Unaiola con il contributo di due commercianti della zona. Notevole l'impegno per ripulire la struttura da sterpagli ed erbacce, potare gli alberi e coltivare il terreno. L'iniziativa è stata fortemente sostenuta dal consigliere comunale Antonio Luongo e realizzata con l'ausilio di Asia che ha messo a disposizione oltre 50 automezzi per il recupero del materiale. È bellissimo vedere questa energia vitale dei bambini e le insegnanti e le mamme in due complessi importanti del quartiere di Soccavo, come hanno sistemato con la nostra collaborazione i giardini e la scuola, le aiule. Un lavoro di squadra come si deve fare nella nostra città e puntando soprattutto sulle scuole, le scuole, i bambini, la municipalità, il comune, il sindaco, tutti insieme per migliorare un pochino alla volta sempre di più la nostra città. Un'atmosfera di festa ha accompagnato la giornata di alunni, genitori e docenti che hanno allestito nell'istituto un mercatino di prodotti natalizi. Portiamo avanti questa cosa, abbiamo dei mercatini di Natale per raccogliere altri fondi, per migliorare questa struttura che è di per sé già molto bella, fa curata un po' di più.